Oggi si interviene sul massimo ribasso, questa logica del massimo ribasso deve finire, per cui il massimo ribasso spesso, talvolta, cosa vuol dire? Capisco che ci sarà fame di lavoro e quindi si abbassano, ma non c'è dubbio che se è patologico il ribasso, il trucco c'è, o si useranno cattivi materiali, o non si garantirà sicurezza nel lavoro, o non si pagheranno secondo tariffe gli operai, i lavoratori, o c'è la mafia, o cosa nostra che dir si voglia, o il progetto è fasullo, o si conta poi di fare varianti in corso d'opera e allora è bene che gli Urega e poi anche l'assessorato vigilino attentamente su tutto quello che di anomalo c'è, anche e soprattutto nel ribasso. E allora io quello che vi propongo e propongo al Presidente della Regione è quella di applicare a questo sistema il sistema di controllo successivo che la Corte dei Conti applica nei nostri confronto. Vale a dire, io mi riservo di costituire un soggetto ancora una volta a composizione mista che a posteriori verifichi le offerte in cui c'è stato un ribasso particolarmente significativo e accerti se effettivamente le giustificazioni rese siano congrue e se siano state congruamente esaminate, vale a dire se le stazioni appaltanti, se gli Urega abbiano fatto correttamente il proprio lavoro.